Amo il golf perché non l'ho amato per 35 anni. No, è un gioco questo, perché all'inizio si pensa sempre che il golf sia uno sport per persone agi. Invece purtroppo l'ho scoperto troppo tardi, anzi lo consiglio a chi ha la possibilità, magari non come me, di essere un po' più giovani e di avvicinarsi a questo sport perché è straordinario, veramente.